Ogni giorno credo che quello che dobbiamo fare come Governo, non soltanto il Ministro dell'Economia, non soltanto il Presidente del Consiglio, ma tutti i Ministri, dimostrare di lavorare seriamente e oggi l'approvazione così rapida di una legge di bilancio che onestamente è andata, chiamiamola così, a prendere a schiaffoni tutti i Ministri a beneficio degli italiani che guadagnano redditi medio-bassi, sia la dimostrazione di questo tipo di coscienza che ha, diciamo così, tutta la classe politica che in questo momento è il Governo del Paese. E confido che oltre chi ha il Governo, anche il Parlamento, mi collego a quello che ha detto prima il Vice Presidente Salvini, anche il Parlamento e soprattutto ovviamente la maggioranza che sostiene questo Governo, adotti esattamente la stessa tipo di atteggiamento in Parlamento. Quindi io apprezzerei moltissimo che i parlamentari della maggioranza apprezzassero il lavoro che è stato fatto e è stato approvato oggi e quindi evitassero di presentare emendamenti. Però è un diritto costituzionale che io riconosco assolutamente pieno e legittimo.